Io ritengo che siamo di fronte a uno dei più grandi sprechi e inefficienze della sanità cittadina. Allora, l'elisoccorso tempo, anni fa, atterrava qui all'ospedale di Pescara e il politraumatizzato entrava direttamente in pronto soccorso. Poi ci hanno fatto credere che questa piattaforma non poteva sopportare il peso del nuovo elicottero più grande e più imponente e si è trasferito tutti in aeroporto, cioè l'elisoccorso carica il politraumatizzato, vai in aeroporto, lo scarica, entra in un'ambulanza che deve passare nel traffico cittadino dall'aeroporto a arrivare qui, con un costo, perché è un'ambulanza privata che si paga. Quindi poi scopriamo che invece questa piattaforma può sopportare il peso del nuovo elicottero e naturalmente un cittadino si arrabbia, si indigna. Iniziano dei lavori solo per rifare la pavimentazione, non la struttura, terminano i lavori diversi mesi fa dell'elisuperficie, ma l'elisuperficie ad oggi, ecco la denuncia forte, è ancora non funzionante, non si capisce perché, per come. Dopo aver speso un sacco di soldi, aver fatto dei lavori della nuova pavimentazione, abbiamo visto progetti fatti, pagati e mai realizzati, un carteggio, un caos enorme e allora io mi sono sentito in dovere di presentare un esposto all'autorità giudiziaria per capire se ci sono fatti degni di approfondimento e un'interpellanza in consiglio regionale per chiedere alla regione Abruzzo di fare un sindacato ispettivo sulla AS e capire, perché qui abbiamo un elisuperficie. I cittadini non possono aspettare un minuto in più, perché il politraumatizzato fa la differenza tra la vita e la morte di una persona. Quindi si deve attivare immediatamente, senza che passi un giorno in più, questa elisuperficie, questa piattaforma che consentirà al politraumatizzato di entrare in tempi brevissimi all'interno ospedale. Sappiate che si sono sprecati tanti soldi, a mio avviso, spese inutili che si potevano risparmiare, si paga la navetta che si poteva risparmiare, abbiamo pagato progetti, abbiamo pagato lavori, un caos generale, questa è una delle più grandi inefficienze della sanità cittadina. Io non farò sconti a nessuno e continuerò a fare questa battaglia.